Sostenere le imprese economiche del territorio, fornendo loro strumenti utili anche in ottica turismo e favorire l'inserimento lavorativo dei giovani. Il tutto grazie a due importanti bandi nazionali che Confesercenti Piacenza presenterà più nel dettaglio in un incontro in programma giovedì prossimo alle 15 alla sede di Via Maestri del Lavoro 7. Il primo bando, rivolto ai pubblici esercizi, ammonta 56 milioni e il contributo concesso potrà arrivare fino al 70% dell'investimento per un massimo di 30.000 euro per ogni impresa. Sarà dedicato all'acquisto di macchinari e attrezzature. Il secondo bando, da 20 milioni di euro, consentirà di coprire il costo del personale neoassunto e neodiplomato permettendo così l'inserimento lavorativo di giovani apprendisti. Le richieste potranno essere presentate a partire dal 1 marzo e fino al 30 aprile. Sempre giovedì, oltre ai bandi, saranno illustrate da Infomedia, partner dell'iniziativa insieme a Confesercenti Piacenza, anche due importanti opportunità formative totalmente gratuite rivolte agli operatori del settore. Abbiamo pensato con Confesercenti di preparare due corsi. Uno è un corso d'inglese di 12 ore per dare la possibilità a tutti i commercianti per l'evento che ci sarà a Piacenza, quindi il primo di luglio, la Tour de France. L'altro corso invece sarà un corso dedicato all'allestimento delle vetrine. Non è sempre finalizzato questo evento, ma queste potranno essere usate anche in futuro. I dati del turismo sono eloquenti, quindi anche queste attività sono attività che portano un valore indotto sul nostro territorio. Noi ci stiamo impegnando in questo e vogliamo che i nostri soci siano pronti. Grazie. 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 Grazie.